Alla fine la Banca Centrale Europea ha deciso per il taglio dei tassi che era già previsto in questa settimana nella giornata di ieri, i tassi di interesse sono scesi al 3,50 sui depositi, al 3,65 per quanto riguarda il tasso di interesse bancario. Ma qualcosa è cambiato anche per quanto riguarda gli Stati Uniti, infatti la prossima settimana nella giornata di mercoledì 18 è attesa la riunione della Federal Reserve dove verrà deciso il taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, il primo sostanzialmente che la Fed dovrebbe fare dopo l'impennata dei tassi degli scorsi anni. Tra le altre cose ci sarà anche il 18 poi l'IPC e quindi il tasso di inflazione europea che è previsto in netto ribasso ragion per cui diciamo l'Europa ha un atteggiamento diverso. Ma in particolar modo quello che fa da padrona è questo grafico qui, cioè le attese degli istituzionali per quanto riguarda il taglio dei tassi di interesse si sono spostate a metà strada fra un 50% di un tassio a 0,25 punti base e un 50% invece che dice 50 punti base. Allora in sostanza c'è di nuovo un po' di disequilibrio quindi probabilmente in alcuni dati che sono usciti anche questa settimana è emerso qualcosa di strano e il mercato sta nuovamente ragionando su un possibile taglio dei tassi maggiore rispetto al previsto. Anche i dati relativi ai rendimenti dei titoli di Stato americani che sono lo specchio del taglio dei tassi di interesse sono nuovamente arrivati a un livello importante. Questo è il tasso biennale che è quello più reattivo alle decisioni dei tassi della Fed ed è a un livello di supporto come potete capire abbastanza importante e non è il solo che è sceso tantissimo. Quindi i rendimenti scendono quando in pratica le attese del mercato sono legate a un taglio dei tassi. Attenzione perché un breakout di questo livello inverte anche il trend in maniera evidente ovviamente questi sono tutti i dati pilotati dalle banche centrali quindi l'analisi tecnica vale tanto e non quanto però si vedono le attese degli operatori. E in questo caso le attese sembrerebbero ribassiste. La stessa cosa per il dato sul rendimento di titoli di Stato al quinquennale poi abbiamo quello decennale che è messo un po' meglio e il ventennale che è ancora stenta a ottenere una fase ribassista un po' più pronunciata. Però questo è un dato importantissimo che sta anche andando a costruire in sostanza un atteggiamento positivo dei mercati in particolare in modo per Nasdaq. Oggi vediamo Nasdaq e anche Bitcoin in questo flash update per quanto riguarda le analisi e quello che è successo in questa settimana. Intanto bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ma è un flash update ragazzi. Allora sulla questione Nasdaq 4 giorni di rialzo 1 2 3 4 e oggi sarebbe il quinto in particolare modo la giornata dell'11 settembre rialzo consistente e anche quella del 9 di settembre in pratica di lunedì. Questa settimana molto positiva per quanto riguarda Nasdaq nulla di trascendentale per le analisi che avevamo già visto nella giornata di lunedì perché qui si è chiuso un ciclo mensile per quanto riguarda Nasdaq e qui ne è iniziato uno nuovo. Quindi non è niente di strano ecco parliamo in questa in quest'ottica. Qui siamo in un nuovo ciclo mensile di Nasdaq attenzione però perché il trimestrale poi chiude a novembre quindi quelle date che ci siamo detti non cambiano. In più abbiamo un livello di resistenza a questa fase qui 20.000 dollari 20.000 punti scusate per quanto riguarda il future di Nasdaq 100 il mini future. E al di sotto di questo livello nulla cambia su quello che abbiamo visto nei giorni scorsi lunedì cioè il tentativo che questa fase rialzista potrebbe avere il fiato corto. Sopra invece questo livello cambia un po' di cosette e poi in caso ne andremo a parlare. Ma come reggito Bitcoin? Bene ma non benissimo perché su Bitcoin abbiamo sicuramente anzi con buona probabilità l'inizio di un nuovo ciclo mensile. Qui ancora non è sicuro perché non sono passati 10-15 giorni però in linea di massima sembrerebbe un nuovo mensile. L'unica questione è attendere insomma veramente domani dopo domani però insomma in linea di massima questo sembra al momento. Bitcoin che è salito sì è vero però non ha avuto slancio anche perché mentre Nasdaq ha avuto uno slancio più importante Bitcoin si è un po' appossato su se stesso dopo i primi giorni. Quindi un rialzo importante nella giornata di lunedì con un più 4% poi in sostanza nulla di fatto è ancorato a questo livello di straresistenza che è questo qui che non vuole demordere. Cioè un livello di resistenza che è sui 58.000 è qualcosa. Il punto di arrivo di cui abbiamo parlato sempre all'inizio di questa settimana non ha mollato e non è riuscito ad andare su. A dire la verità vediamo se domani dopo domani riuscirà in effetti nel tentativo perché a livello settimanale manca ancora un po' di oscillazione. Questa è stata una settimana molto tranquilla sui mercati e le cripto perché in realtà non è successo granché solo alti e bassi però a livello di fluttuazioni non abbiamo grandi fluttuazioni dal lunedì perché l'entità delle oscillazioni è bassa in termini di ampiezza. Tant'è vero che sono due giorni che il mercato è praticamente chiuso tra 57.500 e 58.700 e non riesce in nessun modo a superare questo livello. Attenzione alla giornata di domani dopo domani perché ultimamente sabato e domenica i mercati e le cripto stanno agendo un po' per conto loro andando a riprendere un trend. Allora morale della favola la partenza di un trend più pronunciato di bitcoin deve avvenire a momenti se non avviene bisogna interpellarsi poi nella prossima settimana su questa fase perché è stata un po' debole. Vi ribadisco che prima dei 64.000-65.000 qui non cambia assolutamente niente, quello che vedete in pratica è una swing rialzista di un canale discendente che però sembra avere spazio ancora per poco tempo perché in realtà questo canale non è poi così strutturato, cioè non è in questo modo ma si sta in pratica piegando quindi sostanzialmente si sta andando a delineare una forma di oscillazione leggermente più a triangolo piuttosto che a canale discendente. E questo è importante perché dà la possibilità di comprendere che questa fase sta per terminare che tra un poco il mercato deciderà se andare a continuare il trend rialzista che sta facendo nei prossimi due anni breccando questo triangolone oppure andarlo a definire definitivamente diciamo così andarlo a completare con un percauto ribassista che darebbe lo spazio invece per un ribasso più sostanzioso anche in zona 44.000 dollari. Al momento quindi in pratica è un'oscillazione tutta standard, tutta normale, tutta naturale quella su bitcoin però attendiamo la prossima settimana perché la prossima settimana già il 18 dovesse in effetti avvenire un taglio dei tassi più sostanzioso da parte della federal reserve penso che il mercato tendenzialmente proverà a reagire in maniera più consistente. Tra le altre cose non mi è dispiaciuto neanche andare a vedere una sulla total market cap delle cripto, quel grafico che vi ho mostrato lunedì, andare a vedere comunque una fase di respiro anche sulle altre criptovalute qui, escluso Ethereum, escluso Bitcoin, che comunque un minimo di reattività la stanno dando. Quindi valutiamo questa cosa perché ribadisco attenzione a un breakout di questo livello qui perché se dovesse avvenire lancia un nuovo trend per il settore delle cripto è quello che stiamo aspettando da tanti mesi e quindi staremo molto attenti a questa cosa. Ragazzi oggi era un bounce, facciamo una cosa, mettiamo insieme un bellissimo alert di TradingView sull'incrocio di quel livello lì, così lo creiamo insieme, eccolo qui. Allora ragazzi questo era un flash update perché sono in viaggio, sarò fuori per un bel po' e quindi sarò sempre in movimento. In ogni caso noi ci aggiorniamo e nei prossimi giorni andremo a fare poi il punto della situazione. Attenzione la prossima settimana a queste date qui, quella soprattutto del 18, ma ne parliamo comunque lunedì. Ciao a tutti!